la tensione superficiale cosa ti serve una vaschetta o un catino carta da cucina una graffetta acqua una bacchetta o una matita cosa devi fare ritaglia un quadrato di carta da cucina per una larghezza di 5 centimetri circa versa acqua colorata nella vaschetta per un livello di almeno 4 centimetri appoggia una graffetta sulla carta da cucina e appoggia la carta sull'acqua attendi che la carta assorba l'acqua e delicatamente colpisci la carta con la bacchetta per farla affondare cosa succede alla graffetta galleggia o affonda qual è la forma dell'acqua intorno alla graffetta annota le osservazioni su un quaderno graffetta 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 graffetta